Ciao a tutte e benvenute in un mio nuovo video. Oggi vi voglio mostrare poche cose che ho comprato ma ve le voglio mostrare per non dimenticarmene. Prima di iniziare, se vi fa piacere, vi ricordo di supportare il mio canale iscrivendovi e se vi fa piacere seguitemi anche negli altri social. Ora iniziamo subito! Allora, innanzitutto ci tengo a ringraziare vecchi iscritti, nuovi iscritti, chi guarda i miei video. Non lo do per scontato, ripeto, se il mio canale, anche se piccolo, esiste, esiste grazie a voi che lo supportate. Allora, oggi vi voglio mostrare poche cose che ho comprato. Innanzitutto vi voglio mostrare il mio colore nuovo delle unghie, le ho fatte accorciare. Prende molto di più dal vivo, ero indecisa su quale colorazione fare. Alla fine ho deciso per questa, perché ero indecisa se farla nera. Il colore che avevo, che era una baby boomer con i glitter, per me poteva essere lo smalto o comunque il gel fisso, perché comunque non mi vincola, la mano rimane in ordine, quindi avrei potuto ottenere quello. Ma dal momento che non le faccio io, ma le vado a fare, sinceramente mi piace anche un po' cambiare. Mi sembra che abbia utilizzato una colorazione di Passione Unghie, la 039. Questo è il colore e tra il marrone a volte sembra prugna, però mi piace, sinceramente mi piace. Un colore, secondo me, che non mi vincola più di tanto. Ve lo dico adesso, ho voluto utilizzare questa tinta di Fenty Beauty, adesso fa riflesso, il numero non me lo ricordo. E non ho neanche gli occhiali qui, quindi non sono in grado di dirvelo. Comunque ve lo avvicino qua. Non lo vedo proprio, comunque ho utilizzato da Kiko. La nuova collezione mi piace, però come vi ho detto più volte ho deciso di ponderare gli acquisti. Per il momento non ho voluto acquistare niente. Sono andata per prendere uno smalto da mettere nei piedi che potesse assomigliare un po' al colore che porto oggi. Ho voluto prendere questo, sembra più chiaro dalla confezione, l'ho già messo. Il colore è questo qui. Magari dopo vi faccio un'inquadratura da vicino. Rimane chiaro ma rimane nella stessa scala di colori. Lo sapete, io con i colori sono maniacale. Costava intorno, sotto i 3 euro, forse 2,90 euro o 2,99 euro. L'altra cosa che ho voluto prendere, perché mi è piaciuto il pack, è questo kit, questo piccolo necessaire per le unghie, fatto in questa maniera, dove ha all'interno la lima, il tronchino, una forbicina e lo spingicuticole. Che in effetti, se mi fossi ricordata, l'avrei potuto utilizzare prima, perché ho messo lo smalto nella pausa pranzo. Quindi se mi fossi ricordata, l'avrei potuto utilizzare per i piedi. L'ho preso perché ho detto, magari lo utilizzo peraltro, tolgo tutte le cose, posso lasciare la lima, metto lo specchietto oppure metto i miei bigliettini da visita. Questo veniva a costare intorno ai 9 euro, comunque sotto i 10 euro e quindi ho voluto prendere lui. L'ecopelle l'ho voluta prendere perché è un'ecopelle simil saffiano, quindi secondo me può durare un po' di più. Mi piace molto la misura perché è una misura che è diversa dalle misure standard. Non è quadrata ma non è neanche rettangolare. Non lo so, a me è piaciuto tantissimo e mi è piaciuto tantissimo il colore, quindi l'ho voluto prendere. In questo caso mi ha tratto molto il pack. Un'altra cosa che vi mostro, ce l'ho qua, dentro questa shopper di Berska, che ho voluto acquistare perché mi ero scordata di portare la mia. Mi piaceva tantissimo come misura perché non era grandissima. Il manico è nero e il manico è quello che va per quanto mi riguarda a sporcarsi un po' di più perché le mani non sono pulitissime, poi specialmente noi che ci trucchiamo. E quindi il fatto che fosse nero mi è piaciuto tanto. Veniva a costare 1,90 euro o 1,99 euro. Stava diluviando e quindi siccome ero a piedi ho preferito acquistare questa shopper. Vi mostro questo capo dove c'era scritto il mio nome. Lo so, voi in questo momento starete pensando, Michela è inutile che dici la mia passione, perché io ho passioni ne ho tantissime. Oltre ad amare i cardigan, oltre ad amare le borse, gli accessori in generale, ho una fissazione per il camouflage, per il leopardato. Insomma, sono delle fantasie però non tutte mi piacciono. Mi piace un camouflage con una gradazione di colori non troppo tenue, non troppo forte, con il disegno classico e ancora di più su una base di jeans. Quando stamattina sono entrata da Berska e ho visto questo giaccone, è stato un colpo di fulmine. Le taglie che facevano erano SM, quindi solamente due taglie, o ML. Questo capo non mi piaceva a streaming sito. Ho provato la ML e devo dire la verità mi piace. L'ho provato sopra la camicia, ma questo capo è un capo che non andrò a mettere con i maglioni sotto. Ve lo mostro. Il capo è questo. Non so se riuscite a vedere quanto è bella la gradazione di colore, il classico camouflage. Mi avranno senz'altro presa anche per pazza, perché c'era un pantalone in camouflage del quale non mi piaceva il tessuto, perché era proprio un cotone diverso. E avevo chiesto se c'era un pantalone con lo stesso camouflage, non per andare a fare la soldatessa e vestirmi tutta tono su tono. Ma mi sarebbe piaciuto da mettere i momenti diversi, o anche se insieme, abbinato a un qualcosa di semplicissimo, anche di bianco. Non c'era. Guarderò nel sito per vedere se magari non lo avessero loro, ma fosse disponibile, perché vi assicuro che questo, io lo chiamo jeans perché ha la fattura proprio di un jeans. Mi ricorda il giacone in jeans in verde acido della Twinset. È veramente ottimo, perché è morbido, ma allo stesso tempo è corposo. Non ve lo so spiegare. Comunque mi piace tantissimo, ve l'ho detto più volte, che oltre al colore, una cosa che mi fa scegliere un capo è soprattutto il tessuto. Questo tessuto è 10. Purtroppo così non rende giustizia. Mi piace il tipo di collo, il fatto che abbia questa parte superiore col bottoncino, veramente rifinito benissimo. Il doppio bottone nel polsino, le tasche, questa parte qui che io avevo in mente di personalizzare. A proposito di questo, non ne sono certa, ma ho in mente delle modifiche su questo capo, che se farò condividerò con voi. Un altro punto a favore di questo giacone, che te lo può fare utilizzare adesso nelle mezze stagioni, qual è? L'interno, l'interno tutto trapuntato, ovviamente le maniche le tralasciano sempre, purtroppo per me questa è una pecca, perché sarebbe stata una cosa in più, quindi fatto a gilet. E si può staccare, ha i suoi bottoncini, ho verificato che ci fossero tutti, perché ogni volta che acquisto qualcosa del genere, o mancano i bottoni, o è rotto qualcosa. Quindi l'ho verificato per bene. Ha i tasconi, valore aggiunto, perché per me i tasconi rendono il capo molto molto più particolare e versatile. Insomma, trovo che sia un capo che merita. Vi dico il costo e vi dico l'articolo. Come vi ho detto, ho preso la ml, l'ho pagato praticamente 60 euro. Questo è il codice. Però vi devo dire la verità, 60 euro spesi bene, perché questo è un capo passepartout che rende un outfit total white, total black, o comunque lo rende particolarissimo. Ovviamente un acquisto del genere lo consiglio per una persona che ha tanti capi spalla, basici, e vuole avere un qualcosa che si identifichi nell'armadio. Per chi non ha i capi basici lo sconsiglio, perché se voi questo lo mettete tutti i giorni è chiaro che si nota. Comunque per chi è amante come me di questo camouflage, di questa tipologia, andate o comunque prendetelo perché è meraviglioso. Io come taglia ho una 44 nella parte superiore, a parte le braccia. Comunque la mia taglia adesso è una 44-46 e la ml mi va bene, non è enorme, non mi sta stretta, sta come deve stare. Quindi le taglie sono solamente due. L'ho voluto condividere proprio con voi perché a parer mio merita veramente tanto. Magari dopo lo appendo in una gruccia, perché mio marito in questo momento non c'è, non mi posso fare il video, e lo appendo e ve lo mostro nel dettaglio, vi assicuro merita tantissimo. Questi sono i miei acquisti, vi lascio al mio momento dell'outfit, ci rivediamo subito così vi mostro gli accessori nel dettaglio. Questo è il mio outfit di oggi. Allora, ho messo questa camicia fatta a vestito di motivi che rimane più corta davanti e più lunga dietro. La cintura è una cintura in pelle con i piercing, non so se si riescono a vedere. Non mi ricordo il brand, ce l'ho da tantissimi anni. E il giacone in jeans, è un giacone mi sembra di Bershka, che aveva la possibilità di attaccare un collo che rimaneva giallo ocra, in ecopellicia. I leggings sono leggings di Calcedonia, ovviamente non sono pesantissimi. Gli stivali sinceramente non mi ricordo il brand, non so se sono count, resumo un altro brand, dopo se vedo ve lo lascio scritto, ma sinceramente non me lo ricordo. E hanno tutti questi charm attaccati. La borsa è la mia bag, il modello gigante, personalizzata, con la metalleria argentata. Ma è questo. Vi lascio la parte rimanente del video, così vi mostro gli accessori che porto oggi. La tinta labbra che ho messo su oggi, dopo voglio fare una prova. Questa tinta labbra, a lungo andare sulle labbra, Allora, innanzitutto, a parer mio, mi rende le labbra più piccole e me le secca un tantino. Quando torno a casa, voglio provare a mettere al di sopra un lucida labbra o un lip gloss trasparente che mi idrati e mi renda le labbra meno secche. Vi farò sapere. Per quanto riguarda il profumo, oggi ho messo caffè di equivalenza, che ricorda caffè di Montale, e con me ho l'acqua profumata Precious di Wicon, che appunto ricorda la medesima fragranza. Vi mostro gli accessori. Oggi la fanno da padrona non solo le unghie, ma anche gli accessori. Per chi fosse della mia città, per quanto riguarda le unghie, la ragazza che le fa a me è Egla. È bravissima, quindi lo vedete anche da voi, da quando mi sono messa di nuovo nelle mani di un'esperta, però da quando faccio le unghie, secondo me lei è la perfezione. Altre persone che me le facevano mi saltavano nel giro, venivo qua, aprivo la serranda e mi si rompeva l'unghia. Allacciavo un abito da sposa e si sbeccava l'unghia. È per quello che poi ho smesso di farle. Gli accessori che oggi la fanno da padrona sono i miei anelli e sono questi tre di Berska, acquistati forse un paio d'anni fa, però Berska ripropone ogni anno questa tipologia, questo kit. All'interno ci sono forse 7-8 anelli. Io ho voluto mettere questi tre e poi questo qui invece è in argento e l'avevo acquistato a Como nel 2020, il primo anno della pandemia. Mi piace tantissimo, all'onice, quest'anello lo adoro. Per quanto riguarda l'orologio è un simile Rolex. In questo lato qui ho le mie due fedi, l'Apple Watch e tutti i bracciali che ormai porto su fissi, quindi non ve li sto ad elencare. Come vi dico sempre, se qualcuna di voi è nuova nel mio canale, vuole vedere uno dei gioielli che porto in questo braccio nel dettaglio, me lo scriva pure sotto nei commenti che sarò disposta più che volentieri a mostrarli. Per quanto riguarda le collane, questa che vedete più stretta è una collana che io ho voluto accorciare a choker. Io non amo le cose al collo strettissime, non la tengo durante la notte, ma comunque mi permette di respirare con tranquillità. Semplicemente queste lettere vanno a spostarsi già così stretta. Se l'avessi lasciata, a parte che gioca, se l'avessi lasciata più larga, praticamente non si capiva quello che c'era scritto. Poi ho la mia collana, mi abbasso leggermente, ho la mia collana con il nome, questa è in oro giallo, questa di Ops con la M, e forse dietro, non so dove è finita, eccola qua, ho la piastrina di Pandora personalizzata. Come vi ho detto più volte, Pandora, non nel negozio fisico, ma online, offre un servizio di personalizzazione. Quindi avete la possibilità, mi sembra che ci siano due o più articoli che si possono personalizzare. La piastrina mi piace tantissimo. Come borsa avete potuto vedere dal momento dell'outfit, ho la mia egg, quella gigante. Mi è venuta un po' di nostalgia pensando a uno dei primi video che ho girato con quella borsa nel momento dell'outfit my bag. riguardando i miei video, pensando che sono quasi tre anni sul canale, dico mamma mia come sono volati questi anni, e mi viene un po' di nostalgia. Ripensare ai primi video che ho girato qui su YouTube, non lo so, magari sono io, che ho un carattere un po' così, sono comunque ricordi belli, nostalgia bella per carità, e che comunque corrisponde al momento dell'inizio della pandemia. Perché il primo video l'ho messo a novembre del 2019, e poi gennaio 2020, e poi il momento della pandemia. Cioè io ho incominciato a fare tanti video su YouTube dal terzo video in poi, quando noi eravamo già in pandemia. Pensare che sono passati tre anni, insomma, sono proprio volati. E' stato proprio un periodo che è volato a parer mio. Il video termina qua. Io spero, come sempre, di non avervi annoiato, di avervi dato qualche spunto, per qualche idea regalo, o qualcosa che eventualmente state cercando. Ripeto, per quanto riguarda questa giacca, ho in mente di arricchirla ancora di più, per quanto sia già particolare. Quando deciderò di modificarla, magari adesso me la terrò così, vi farò un video, così vi mostro esattamente cosa ho voluto aggiungere. Perché devo valutare le modifiche appunto che voglio apportare, che non vadano a rendere la giacca troppo pesante, perché è già un camouflage, una base di partenza bella ricca. Però, lo sapete, io sono fissata con le personalizzazioni. Quindi una, di sicuro, la farò nella parte anteriore, dove c'è quella fascetta. E chi mi conosce, può già immaginare. Il video comunque termina qui. Io spero, come sempre, di avervi tenuto compagnia. E noi ci vediamo prestissimo con un altro mio video. Buon pomeriggio!